La manovraccia è arrivata alla Camera, in altri termini la legge di stabilità di Renzi e compagni è arrivata in questo ramo del Parlamento, dopo la fiducia al Senato. È un grande imbroglio, taglia fintamente le tasse facendo debiti e soprattutto non risponde alle esigenze di sicurezza del Paese. Noi questo lo diremo nei prossimi giorni con una conferenza congiunta di tutto il Centrodestra Unito per spiegare la nostra contromanovra, soprattutto legata al tema della sicurezza, spiegando come si possono poi tagliare le tasse, però senza fare debiti, ma tagliando invece la cattiva spesa pubblica.